Sì, devo dire, abbiamo mantenuto lo standard di essere stati inseriti nelle manifestazioni dell'anno europeo della cultura. Il mandorlo continua a crescere, quest'anno abbiamo ottenuto l'iscrizione al Reis, il patrocinio della Commissione Nazionale Unesco, c'è grande attenzione e voglia di crescere e grandi potenzialità. Quindi ci rivediamo l'anno prossimo, speriamo per ottenere o avere già ottenuto altri bei traguardi come quest'anno.